pace fratelli e sorelle dio sia benedetto e lodato per questo nuovo giorno che ci concede grazie a dio siamo qui a leggere la sua parola a meditarla e vogliamo con tutto il cuore aprire le nostre orecchie spirituali per ascoltare queste breve riflessioni affinché possano essere un tesoro in questo giorno per i cuori e le vite di ognuno di noi siamo arrivati al capitolo 8 vangelo di matteo naturalmente stamattina vi propongo di leggere i primi 13 versi in questi passi l'evangelista comincia a raccontare quello che gesù fece una volta che scese dal monte nei giorni precedenti abbiamo riflettuto brevemente sul discorso che gesù tenne sul monte ora gesù scende da questo monte e vediamo che c'è una folla verso uno che lo segue lo segue perché perché le parole del signore hanno sicuramente impressionato in senso positivo gli uditori e perché quelle parole avevano saziato l'anima di questi uomini e qui è importante evidenziare due aspetti uno sicuramente erano saziati perché erano desiderosi di ricevere un insegnamento sano e secondo erano saziati perché il signore gli diede le giuste parole gli diede il giusto messaggio secondo il bisogno che quelle persone avevano cosa ci insegna questo ci insegna che ancora oggi l'uomo in generale ha bisogno di ascoltare la parola di dio e quello che noi dobbiamo fare è testimoniare della sua grazia ed è presentare il suo messaggio senza vergogna perché sappiamo che stiamo parlando da parte di dio e stiamo presentando il messaggio della parola di dio naturalmente non tutti ascolteranno perché non tutti sono affamati di verità e di giustizia ma sia beneletto il signore per quanti ascolteranno e per quanti cominceranno a seguire gesù proprio come fecero queste folle gesù scende dal monte e la prima cosa che l'evangelista racconta è che un lebroso gli si avvicina e gli dice signore se tu vuoi tu puoi purificarmi è una bella dichiarazione di fede questa se tu vuoi tu puoi e questa è un qualcosa che dobbiamo sempre ricordare se il signore vuole lui può non c'è nulla che sia difficile per il signore non c'è nulla che sia impossibile per il signore tutto è possibile a dio e questa fiducia ci deve accompagnare ogni qual volta presentiamo una preghiera al signore e ci dobbiamo ricordare che se dio vuole può e che se dio non fa non è perché non può ma perché non vuole e se dio non vuole è perché sa che quello che noi stiamo chiedendo non tornerebbe al nostro utile spirituale ora dobbiamo entrare in un'ottica che non sempre è facile da accettare noi non conosciamo bene noi stessi e di conseguenza non sappiamo bene quello di cui abbiamo realmente di bisogno il signore invece sì e allora sia benedetto il signore per quando risponde sì alle nostre preghiere sia benedetto il signore per quando risponde aspetta ma sia benedetto il signore anche quando ci dice di no ricordiamocelo se lui non ha voluto non è perché non ha potuto ma perché egli ha un piano diverso se fissiamo bene questo concetto in testa eviteremo di commettere l'errore di provare ad aiutare il signore a risponderci o di fare noi quello che magari il signore non ha fatto il secondo miracolo che viene raccontato è quello a favore del servo del centurione anche qui un uomo un uomo che riconosce la potenza che c'è in Cristo Gesù un uomo che riconosce che il signore può fare quello che i medici di quel tempo non potevano fare a un servo un servo che giaceva in casa parolitico e soffriva moltissimo lo leggiamo al verso 6 e Gesù quando ascolta questo uomo che chiede indirettamente il suo intervento si dispone ad andare a casa ma il centurione e questo lo ricordiamo bene fermerà Gesù e gli dirà signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di una parola di una parola e il mio servo sarà guarito in questo uomo troviamo la stessa fede dell'ebroso crede che se il signore vuole può fare ogni cosa ma troviamo ancora qualcosa di più è un uomo il centurione che ha capito che al signore non serve il contatto fisico per compiere un miracolo ma al signore basta pronunciare la parola e questo ci incoraggia tanto fratelli e sorelle ci incoraggia ancora oggi a credere che Dio può operare un miracolo in nostro favore che Gesù anche se non è presente fisicamente lo è spiritualmente e che quello che lui vuole fare lo farà anche se non ha più un corpo di carne come noi lo abbiamo e gloria sia a Dio perché ancora oggi il signore continua a compiere miracoli straordinari dinanzi alla risposta di questo centurione che era comunque basata sull'esperienza che lui aveva cioè lui era un capo e quando dava ordini ai suoi sottoposti e sottomessi sapeva che essi ubbidivano dinanzi alla risposta di questo centurione Gesù fa una dichiarazione bellissima io non ho mai visto una fede così grande neanche in Israele è meravigliato il signore e se è vero che nella parola di Dio spesso leggiamo che le folle si meravigliavano dell'insegnamento e delle opere compiute da Gesù qui vediamo un signore che si meraviglia della fede non di un israelita ma di un gentile ecco Dio possa far sì che anche noi possiamo in questo giorno e tutti i giorni della nostra vita meravigliare il signore con la nostra piena fiducia in lui e nelle opere che lui può compiere ricordiamoci fratelli ricordiamoci sorelle il signore può fare ogni cosa tutto quello che lui vuole quello che è necessario e avere fede nel nome di Gesù Cristo e credere che a Dio ogni cosa è possibile Dio ci dia grazia in questo giorno di avere questi sentimenti e di conservarli tutti i giorni della nostra vita pace fratelli e sorelle Dio vi benedica in questo nuovo giorno